Ecco i canali chiusi di Mediaset. Telecinque, in Germania, La Cinque in Francia, MT Channel, Epi Channel, Duel TV, Italia Teen Television, Comedy Life, Mediaset Plus, Media Shopping, Mia, For You, Hero, Steel, Premium Sport, Premium Calcio, Premium Joy, Premium Cinema, Premium Action, Premium Crime, e Premium Stories. Ciao a tutti e alla prossima!